Allora, prima di cappare di brutto e di annunciare cose che non sono ancora annunciabili, vi annuncio che annuncerò una cosa più avanti, ma non posso ancora annunciarla, ok? Va bene, scusatemi, il video che ho pubblicato ora lo tolgo perché no, non voglio annunciare cose che non sono ancora annunciabili, ecco. Bene, ciao!